Si avvicina il doppio appuntamento con Endless Love. Nella puntata di domani, Nian e Kemal cercheranno di trovare un modo per allontanare definitivamente Denise dalle grinfie di Emir, ma sarà più difficile di quanto pensino. Questo, soprattutto, dal momento in cui Nian si accorgerà di qualcosa di preoccupante e spaventoso, che riguarda sua figlia. Per scoprire di cosa si tratta, leggete il nostro articolo. Domani è il 31 ottobre, la giornata di Halloween. Nonostante ciò, Endless Love non si fermerà e, anzi, come ogni giovedì, ci sarà il doppio appuntamento con l'amatissima sopopera turca di Canale 5, il serial televisivo, infatti, andrà in onda di pomeriggio e anche di sera. Le puntate di domani, in particolare, saranno parecchio emozionanti e ricche di colpi di scena. Riusciranno, così, a colmare il vuoto della giornata di venerdì 1 novembre, durante la quale, invece, non andrà in onda la sopopera turca più seguita del momento. In questo articolo, in particolare, parleremo delle anticipazioni della puntata di domani pomeriggio, mentre in un altro articolo riveleremo cosa accadrà nella puntata lunga serale. Al termine dell'episodio di oggi pomeriggio, Nian deciderà di far visita a Kemal. La donna, infatti, sentirà la mancanza di Kemal e, soprattutto, della figlia Denise. Per questo motivo, Nian andrà dalle due persone più importanti della sua vita. Le cose, però, non andranno come la donna sperava. Succederà, infatti, qualcosa di preoccupante. Scopriamo di cosa si tratta. Endless Love. Le anticipazioni della puntata di domani pomeriggio, brutto contrattempo per Kemal. Kemal e Nian parleranno della cosa giusta da fare, per evitare che Emir faccia, per sempre, sparire Denise. I due decideranno, dunque, di portare la bambina in un luogo sicuro e segreto, e di farla accudire dai genitori di Kemal. Per far sì che ciò accada, l'uomo chiederà a Zeir, e ad altri collaboratori, di aiutarlo a depistare tutti gli inseguitori della piccola, compreso Emir, al fine di portarla in salvo, e lontana dalle grinfie di queste persone. Sfortunatamente, però, a un certo punto accadrà qualcosa di inaspettato. Nian, infatti, si accorgerà del fatto che la piccola Denise è piena di bollicine rosse, sulla faccia e sul corpo. Pur rischiando di essere scoperti, dunque, Nian e Kemal porteranno la bambina in ospedale. La situazione sembra, in effetti, troppo preoccupante per evitare di sottoporre la piccola a un controllo medico. Come andrà questo controllo? Cosa avrà la figlia di Kemal e Nian? Ma, soprattutto, portando la piccola in ospedale, i due rischieranno di essere scoperti? Per scoprirlo, dovrete continuare a seguire l'appassionante serial televisivo turco. Nell'episodio di domani sera, infatti, si scoprirà tutto. Vi anticipiamo che la bambina non ha nulla di veramente preoccupante, ma che Nian e Kemal dovranno preoccuparsi di altro.